Ci sono le sagome in cartone dei cinghiali, propri animali nel mirino della protesta, ad aprire il corteo della Col di Retti che oggi è scesa in piazza a Napoli per chiedere interventi contro la proliferazione incontrollata di questi mammiferi. Secondo i manifestanti, infatti, la presenza di lagante e dei cinghiali che devastano i campi e le culture rischia di mettere in ginocchio gli agricoltori, i contadini e gli imprenditori campani, vanificando il loro lavoro, e per questo adesso chiedono alle istituzioni regionali di porre un argine all'emergenza. Concentramento in piazza Plebiscito, poi gli attivisti, maglietta gialla indosso e bandiere col diretti in mano, hanno attraversato via Santa Lucia fino ad arrivare davanti alla sede dell'Aggiunta regionale della Campania, dove hanno dato vita ad un flash mob. I dettagli della mobilitazione le hanno forniti il presidente col diretti Campania, Ettore Bellelli, e il direttore col diretti Caserta, Giuseppe Miselli. Ormai è diventata una presenza costante, una presenza di animali che distruggono interi raccolti e che minano la redditività delle nostre aziende agricole. Chiediamo alla Regione appunto di adeguarsi alla legge nazionale che prevede appunto un abbattimento di questi capi che può avvenire durante l'intero anno solare senza tener conto del calendario venatorio. È importante perché ormai è andato un problema sociale, un problema dove la presenza dei cinghiali sulle strade causa anche incidenti e purtroppo anche morti di giovani ragazzi. Per cui bisogna intervenire urgentemente, chiediamo l'intervento da parte della Regione che possa ottenere la riduzione drastica del numero di cinghiali con la maggior parte del numero di interventi da poter fare.